Allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti dove? Ma in questo luogo dove il vino scorre a fiumi. Buongiorno a tutti, iscrivetevi, condividete questo video con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, anche dell'Inter. Seguite violapras, violapras, violapras.com che vi dà info, notizie, aggiornamenti, novità sulla Fiorentina. Seguitemi su Instagram AlessandroCatto91 e su Instagram seguite tutti OutOfContext underscore AlessandroCatto che vi lascio in descrizione, che fa devastare dalle risate, ripescando i migliori momenti della vita del canile, i migliori anni della nostra vita. Allora un po' di annuncistica, va bene, annuncistica parrocchiale, gli impegni della parrocchia, gli impegni della cappella, va bene, cattiana. Allora, questa mattina questo video qui sulla Fiorentina, quest'oggi pomeriggio per abbonati base, puntata speciale dell'Arena dei Butei col Bepi e con Gianluca dedicata al Verona dopo ieri al calciomercato, al campo del magico Hellas Verona. E questa sera segnatevi tutti l'appuntamento in agenda, mi raccomando, ore 21, live di processo al campionato in cui rispondo a tutte le vostre domande sulla Fiorentina, ma anche su tutte le altre squadre, su tutte le altre partite. Calciomercato, puntatine, va bene, questa sera appuntamento immancabile alle ore 21. Allora, quest'oggi non voglio fare un video sulla Fiorentina di signore come stai, come non stai, ma non è neanche un recap di calciomercato, perché nel mentre sto facendo questo video grosse novità, diciamo, non ce ne sono, lo dico anche al buon Falciani, non sto vedendo grandissime novità di calciomercato, dovessero essercene in queste ore. Ovviamente commentiamo prontamente, ma per adesso leggo solo articoli inerenti il tema stadio, schermaglie, cose su campi Firenze, lasciamo perdere, lasciamo un po' maturare la situazione. E volevo fare un video di pindaristica, un video di pindaristica che mi porto dietro da un po' di tempo e che vorrei sottoporvi. Allora, io parto però con una precisazione. Io non sono così convinto che a maggio-giugno si vada verso un rinnovamento totale di quelli che sono i quadri dirigenziali e tecnici della Fiorentina di adesso. Nel senso, detta in semplice, non sono così convinto che Prandelli venga mandato via, non sono così neanche convinto che Pradè venga mandato via. Probabilmente ha più chance il cambio di direttore sportivo, ma non mi stupirei, come vi ho detto anche nei video di questa settimana, se Prandelli dovesse essere confermato a fronte di un buon campionato. Ma ve l'avevo detto appena era arrivato, buon campionato nel senso a fronte di una classifica tranquilla. Anche perché le scelte di calciomercato che si sono fatte in questa finestra, secondo me, hanno, soprattutto dal punto di vista delle cessioni e del futuro, possono avere anche un futuro con l'attuale mister. Questo lo vedremo, quindi partendo dal fatto che non sono così convinto che si vada verso quel cambio di cui spesso abbiamo discusso, che io continuo a reputare come una cosa che bisognerebbe fare, nel senso che se fosse per me l'avrei fatto anche a maggio-giugno dello scorso anno, comunque a fine dello scorso campionato, a maggior ragione lo farei a maggio-giugno se si vuole rilanciare, se si vuole fare una Fiorentina che possa guardare al futuro con forza, però io non sono la società, io non è che ho le leve di comando, questo non significa che se lo farei io verrà fatto. Su questo ho alcune riserve, però voglio fare questo video perché c'è una situazione che mi fomenterebbe, c'è una situazione che abbraccerebbe quel tipo di cambio dirigenziale e tecnico che mi fomenterebbe. Allora sono uscite delle voci inerenti a presunti contatti con Petracchi e via dicendo che poi la società ha anche smentito, ma lasciamo stare il direttore sportivo perché il mio pindarismo, che è la mia pindaristica di quest'oggi, si rivolge soprattutto a questione allenatore e questione campo. Per chi io vi dico, e senza troppo hype, senza portarla all'infinito, vi dico subito qual è la pindaristica che mi fomenterebbe, sarebbe una Fiorentina con Maurizio Sarri allenatore che possa anche impostare la prossima stagione sulla base di un 4-3-3 e attenzione, attenzione, una pontatina che è sempre stata sottacente, sottaceto, sotterfugia, ma sempre ben presente in me, che è il buon Sensi. Portare Sensi alla Fiorentina dall'Inter con Maurizio Sarri allenatore. Questa è una cosa che a me fomenterebbe molto, perché penso che Sensi sia un grande giocatore, un giocatore di grande qualità, che però purtroppo è stato limitato dagli infortuni, ma infortuni che non sono casuali o endemici. Secondo me sono anche frutto di una condizione atletica estrema che Conte chiede ai suoi giocatori. Cioè io penso che Sensi sia un giocatore che atleticamente, con un allenatore come Conte e con i ritmi che un Conte chiede ad una sua Inter, faccia fatica a stare dietro. Lui è un po' debole da sto punto di vista, secondo me fatica un po' a tenere i ritmi che sono richiesti da Conte, dagli allenamenti di Conte, venendo in una piazza come Firenze io penso che veramente troverebbe una centralità assoluta. Una centralità assoluta avrebbe probabilmente, con un Sarri allenatore, una preparazione atletica diversa. Sarri è un allenatore che lavora molto con la palla e che valorizza giocatori del genere. Da noi andrebbe bene per tutte le stagioni, perché è un giocatore che può fare il trequartista, ma può anche, secondo me, giocare in un 4-3-3 o 4-3-1-2 Sarriano, anche da mezzala. Mi immagino un centrocampo a Mrabat, Castrovilli, Sensi. Io un Sensi alla Fiorentina ce lo vedrei veramente da Dio e sarebbe un po' quel giocatore, vi ricordate in estate che vi dicevo, servirebbe un centrocampista o un regista o uno alla Pizarro, per intendersi o alla Veloso, di grande qualità in fase di impostazione, oppure un centrocampista di sostanza, un centrocampista forte, un centrocampista di grande qualità che ti fa salire la squadra. Potenzialmente Sensi può essere quel tipo di giocatore, può essere quel tipo di fulcro, può essere quel tipo di fulcro. E mi immagino anche, per esempio, purtroppo, qualora dovessero esserci delle trattative di calciomercato inerente, per esempio, Milenkovic, che è un giocatore che all'Inter è sempre piaciuto e che bisogna vedere quale futuro avrà alla Fiorentina, se ne avrà uno dopo quest'anno, ma se, per esempio, Milenkovic dovesse interessare all'Inter e ci dovesse essere una trattativa per Milenkovic all'Inter, un inserimento di Sensi io non lo butterei via. Io non lo butterei via per niente, un inserimento di Sensi. Paradossalmente la pontatina di Sensi alla Fiorentina avrebbe ancora più forza, qualora magari anche un Castrovilli, non lo so, dovessimo avere a che fare con la sua potenziale eccezione. Ma io Sensi alla Fiorentina lo vorrei, cioè una Fiorentina che inizia già adesso a ragionare magari di un rilancio con Sarri in panca e ad aprire a questa possibilità, lavorandoci già da adesso, magari inserendo pure il discorso di Sensi, a me fomenterebbe molto, a me fomenterebbe molto. Io ho questa pontatina qua di avere Sensi alla Fiorentina, anche perché è un giocatore veramente attorno al quale potresti costruire la squadra, potresti veramente, se lo recuperi dal punto di vista fisico e della continuità, e per me ci sono tutti i margini per farlo, con un diverso tipo di allenamento e con un Sarri in panca ti diventa... La Sparo può essere un po' come era Rui Costa l'anno della Coppa Italia, cioè un giocatore totale, un giocatore faro anche della Fiorentina, anche di una Fiorentina, chi lo sa, magari in futuro europea. Quindi volevo sottoporvi questa pontatina di Sensi, questa pontatina di Sensi alla Fiorentina con Sarri, anche con qualche intreccio di calciomercato che può riguardare l'Inter. E chiudo con una roboanza veramente devastante, però sapete che io voglio mettervi in difficoltà, voglio farvi soffrire perché questo meritate del resto. Fermati un secondo e pensa che questi 70 sono come i nuovi 30. Se vi dicessero, amante degli imprevisti o vittima degli eventi, tu come mi definiresti? Se vi dicessero, Castrovilli va all'Inter, ma tu hai la sicurezza che ti arrivano sia Sarri che Sensi, con anche magari un conguaglio economico a favore della Fiorentina di una decina, 12 milioni. Voi che cosa direste? Con la garanzia di... Sapete che Castrovilli l'ho allevato al latte del mio seno, vi ho rotto i coglioni con Castrovilli. C'è gente che in privato due anni fa mi diceva smettila di parlare di Castrovilli per piacere. Ok? Sapete quanto io ci tenga a questo giocatore. Però ragioniamo nella realtà dei fatti con cinismo e macchiavellismo. Se vi dicessero, Castrovilli va all'Inter e tu hai la sicurezza che alla Fiorentina arrivano Sensi e Sarri, voi cosa direste? Io non sto dicendo che direi di sì a cuor leggero. Dico però che ci sarebbe del fomento, del dubbio e dell'insicurezza. Voi cosa fareste? E ditemi cosa ne pensate di questa pontatina di futuro con Sarri e Sensi e la Fiorentina. La lancio così, probabilmente non accadrà mai. Se devo dire ad oggi che cosa penso, mi vedo una riconferma di Prandelli. Ma ditemi voi che cosa ne pensate. Un caro saluto.